L'agenzia Petroniana Viaggi organizza per il mese di maggio un pellegrinaggio in Terra Santa in occasione della visita di Sua Santità Benedetto XVI. Il pellegrinaggio avrà luogo dal 9 al 16 di maggio con partenza in aereo da Verona. Sono previste visite ai luoghi santi in Galilea e in Giudea e la partecipazione alle celebrazioni presedute dal Papa. Per il programma dettagliato e per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet www.petronianaviaggi.it. La sede dell'agenzia è a Bologna in Via del Monte 3.